Due Canadair sono arrivati anche dall'Italia per aiutare Israele a fronteggiare l'emergenza incendi. 800 focolai in diverse zone del paese, 3500 le persone evacuate ieri dalle loro case, in gran parte incenerite. Chiusa per diverse ore l'autostrada che collega Tel Aviv a Gerusalemme. A scatenare le fiamme l'ondata di caldo che ha investito Israele con temperature superiori ai 40 gradi, ma anche più di un cortocircuito elettrico e i falò accesi in tutto il paese mercoledì notte per la festa di l'Agbomer. Il premier Netanyahu ha ringraziato i paesi disponibili a mandare rinforzi dall'Italia e dalla Grecia fino all'Egitto e all'autorità palestinese. Se da Ramallah si offre aiuto ad Israele, da Gaza vengono lanciati oltre confine palloncini incendiari e il caldo torrido non ferma le manifestazioni di protesta, come da più di un anno accade ogni venerdì. La situazione a Gaza è terribile, specialmente per i giovani non c'è lavoro o viene pagata una miseria, ci racconta Khaled, che ha ottenuto un permesso di uscita per ragioni di salute accompagnato da sua moglie Damis. Due dei nostri 11 figli sono scappati verso la Grecia, non abbiamo loro notizie. La tregua a Gaza per ora regge, mentre il premier Netanyahu fatica a formare un nuovo governo, tanto che i media locali paventano un ritorno alle urli. Il motivo dello stallo sono le posizioni contrastanti di due partiti alleati del Likud sulla controversa riforma del servizio militare obbligatorio, da cui sono esentati solo gli ebrei ultraortodossi.